Finiamola una volta per tutte! Ricarico! L'ho ricaricato! Oh! Per Citra! L'ho ricaricato! Ricarico! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Poche munizioni! Poche munizioni! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Lo vedete? Rapidi come il fulmine! Doviamo andare in fretta! Doviamo andare in fretta! Esploratori nemici in volo! Doviamo andare in fretta! Doviamo andare in fretta! Andrà tutto bene! Devo ricaricare! Pronti per la ricognizione! Esploratori in volo! Devo ricaricare! Si acerrà finito! Veloci! Granata! Granata! No! No! Un nemico! Pronto a combattere! No! 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 Mi serve una mano! Devo ricaricare! Sto per lanciare! Ricarico! Uno è là! Sto per lanciare! Uccidete l'intesa! Rimettiti in piedi! Pronti a cancare il gas pedenoso! Puoi farsela! Sto ricaricando! Mirate al cuore! Non so che essa, mi serve una mano! Oh! Sto per lanciare! E'iki! Ricarico! 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 C'è qualcuno? Mi serve aiuto! Rimettiti in piedi! Ricarico! C'è qualcuno? Mi serve aiuto! Il nemico ha inviato degli esploratori! Guardatevi le spalle! Ricarico! Ricarico! Sono me! Sono me! Sono me! Ho bisogno di aiuto! Ricarico! Granata in volo! Ammazzateli alla sveglia! Ricarico! 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 Mi hanno colpito! Lascia che ti aiuti! Mi hanno colpito! Un buon guerriero non muore così. Mi lasciate andare? Combatterai ancora! Avanti! Non male! Anche tu! Non male! Un degno avversario! Di rei fondata! No male! Si è un collo avuto! Soy is corps! Un ingresso! Non male! Delнего rischio! Un Ihrer!